Si è tenuto ieri sera il Consiglio Comunale di Ascireale, durante il quale l'amministrazione ha sottoposto all'Assemblea Cittadina un atto di indirizzo sulle nuove liquide di IMU e Tarsu. Una prassi, addetta di diversi consiglieri, assolutamente inusuale. In ogni caso, il sindaco Nino Garoz ha dichiarato che non è previsto alcun aumento della Tarsu, che è di competenza dell'Aggiunta. L'aumento della liquida del IMU, invece, è compito dal Consiglio che dovrà emanare l'apposito regolamento entro il 30 settembre prossimo. Discussione quindi rinviata domani sera in un assoluto di consiglio che si preannuncia incantescente, anche perché saranno presentati altri due atti di indirizzo in contrapposizione a quello dell'amministrazione.